Grazie, io vi ringrazio dell'invito e vi porto anche i saluti dei metalmeccanici della FIM. Dicendo che secondo me la nostra associazione ha sicuramente un ruolo molto importante nei prossimi anni e soprattutto su un versante che anche a noi metalmeccanici sta molto caro, che è quella della questione del modello di sviluppo e dei consumi, anche perché credo che noi anche all'interno della nostra organizzazione intesa come CISL ci occupiamo spesso troppo poco del tipo di modello di consumo al quale andiamo incontro che è peraltro poi funzionale anche il tipo di modello di sviluppo. Noi nel nostro piccolo come metalmeccanici abbiamo provato in tre circostanze, a fine anno facciamo un direttivo nel quale cerchiamo di parlare di temi non strettamente legati alla quotidianità sindacale. Abbiamo parlato tre anni fa, abbiamo fatto un intervento sulla questione dell'acqua come bene comune assieme ad una compagnia teatrale, ci siamo interrogati appunto sul mondo dei beni comuni. Un paio di anni fa ci siamo anche poi occupati proprio di consumo responsabile, quindi delle varie tipologie di consumi e quindi della questione ambientale e via dicendo. L'ultimo direttivo che abbiamo fatto a dicembre dell'anno scorso ci siamo occupati invece di mettere a confronto le varie teorie che si stanno diciamo oggi come oggi facendo avanti sulla questione dei nuovi modelli di sviluppo, quindi sapete che c'è anche la teoria della decrescita felice, c'è la teoria di neokeinesianesimo se così si può definire diciamo. Quindi ci siamo un po' interrogati su questi temi, anche perché vedete per noi è fondamentale perché lavoriamo quotidianamente in aziende industriali, le aziende industriali producono manufatti e non è indifferente produrre profili d'acciaio piuttosto che produrre prodotti che siano eventualmente compatibili con l'ambiente e via dicendo. Cioè noi evidentemente dobbiamo cominciare in maniera sempre più pressante a porci il problema di cosa producono le nostre fabbriche perché tutto sostanzialmente per noi nei prossimi anni dipenderà da quello, dipenderà anche dalle politiche industriali che verranno portate avanti da chi ci governerà evidentemente in futuro. Io credo che quindi la nostra associazione, la di Consum, possa anche essere da stimolo all'interno della CISL per porsi sempre di più queste tipologie di problemi perché come dire, stringere delle sinergie già all'interno tra di noi, porci nel nostro dibattito, capire dove va l'industria, dove va il commercio e via dicendo, anche guidati ed aiutati da voi, dalla di Consum, questo può essere sicuramente molto molto importante. Io ve lo chiedo quasi di farci da stimolo, nel senso che purtroppo, ripeto, noto che nella nostra organizzazione questo è un tema come dire che anche per motivi logici, nel senso la crisi ci ha costretto ad una quotidianità e ad attività come dire d'emergenza, evitare che chiudessero le fabbriche, fare ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, quindi abbiamo una quotidianità che ci sovrasta onestamente, quindi il nostro lavoro è dedicato al 99% a queste tipologie di emergenze. Però noi non possiamo far finta di niente, quindi dobbiamo credo anche porci queste tipologie di problemi e sono certo che la di Consum, appunto, come organizzazione di tutela dei consumatori e dell'ambiente sia, possa essere protagonista e possa anche essere, diciamo, da traino all'interno di questo dibattito nella nostra CISL. Vi ringrazio. Grazie. Grazie.